Tutto quello che parliamo, lui lo sente, ok? Ha gli occhiali, vanno bene. Stiamo lì a fuoco, fuori piove. Perfetto. Che bello non sentirlo stare dentro. E' un'emozione strana. Cioè da dentro, seduti al caldo, e tu vogli il drone. E' un effetto strano. Passiamo qua sotto. Sì. Allora arriva in delle prime gocce. Vediamo più in dove arriva il segnale. E' sopra cardata nevica, mi sa. Sì. Ecco, 29-19, devo tornare giù. Questa non è in ebbia, questo è fumo. Buongiorno. Buongiorno. Passiamo in mezzo, fumo dal grotto. Eccolo qua. La chiesa, no, dobbiamo tornare in segnale 33. Torniamo adesso di noi. Dove entriamo? Non c'è nessuno fuori, no? Uiga, pianta qua. Ah, ok, c'è qualcuno lì. Ok, ho visto. Ah, sono le bivite, adesso ho capito. Grazie, salute. Ciao, coni. Ciao, coni. Ciao. Ho sentito adesso la voce. Come stai? Vuoi vedere? Guarda il video dove sono a Goldorone. Lo vedi sul telefono? Sono qui di fuori dal grotto, fuori dal tetto. Mi danno un po' di fastidio a queste macchie con l'avance, però. Da qua mi sembra che si poteva andare da dentro. E' un po' di goccia. Eh, lo so, danno un po' di fastidio, però. Ah, io ho toccato, però. Intanto ho ancora. Finché... Ah, adesso. Questa mi ha dato fastidio. Questa è proprio davanti al centro adesso. Ok, qua in mezzo non ci passo più, perché prima c'ero passato, ma ha fatto iniziare tutta la cimbre. Vabbè, vogliamo ancora un pochettino anche con la goccia. Non rischiamo più di tanto. Magari si asciuga. Cos'è? Guarda le voce. No, è uguale a niente. Ah, l'hai visto? Ahia, adesso passate mezzo nuovo la goccia. Ciao. Guarda, di qua che tu vedi. Ah, vedevo un coglione che faceva avanti. Ah, sì, grazie del coglione. Eh, no, ero io. Ah, come eri te? Chi è che girava lì? Io. Non ti ho mai visto, non ti ho filmato a te. No, se no, questo chiede permesso. Mi chiede permesso, ok, te lo chiedo. Ma è che c'è una goccia davanti, vedi un tivo. Vedi la goccia qui davanti, la bandiera qua. Ah, no, boh, no. Allora faccio il sogno, non te lo è. Però questo è una goccia davanti al visore, ma da fastidio. Da proprio fastidio quella qua in mezzo. Finiva, vicine. Ma non voglio fermarmi a pulirlo. E' che vorrei cercare di asciugarlo, ma non si asciuga. Proviamo a uscire. Adesso piova più, ancora di più. Sì, adesso piova ancora di più. Eh, difatti, no. Torno indietro. Sì, adesso piova più, ancora di più. Da qua sotto, sì, ci passiamo. E di nuovo nella goccia. Buon. Buon. Atterriamo. Buon. 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 Buon.